ciao buona epifania a me sono arrivati altri due o tre regali belli belli bellissimi ma oggi stavo guardando di sistemare un po di abiti e accessori e ho trovato questo abito che l'ho già messo un paio di volte che ha un tono un po epifanico anche se ho scoperto che la befana è una tradizione soltanto italiana però questo abito un po dark così elegante con scollo dietro mi sembra proprio adeguato da indossare questa sera perché poi non ci sono tante occasioni per mettere un abito così quando è che si può indossare oltre a questo abito ho trovato nel mio bauletto delle carte queste che mi sono resa conto non le ho mai messe anche questo è un regalo che ho ricevuto forse un anno fa non le avevo messe perché ho notato che è una taglia leggermente grande ma proviamo ugualmente qui in diretta vediamo che calze sono che sono sempre serve questo sì modello modello va capri apriamo apriamo il pacchettino bellina bella la confezione sono calze color nude anche queste velatissime notare la finestra di queste calze ah e sto constatando che sono calze per reggi calze così a prima vista sembrerebbero davvero una taglia un po abbondante per me proviamone ugualmente ormai ho aperto super 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 velate va bene proveremo di certo sono grandi però hanno la punta hanno un pochino di punta sono così sottili sembra quasi di non averle e devo dire che dopo tutto non sono neanche così larghe come pensavo è stato un pochino di punta si queste sono carte molto particolari perché sono totalmente di nylon e non sono molto elasticizzate ma la sensazione sulla pelle è di vero comfort poi col fatto che non sono molte elasticizzate se la taglia abbondante fanno un po di pieghine un po di pieghine tipo che sotto al ginocchio occorre metterle bene sono rimasta piacevolmente sorpresa perché queste calze vanno bene sì sì fanno bene sono perfette sembra quasi di non averle le metto con questa scarpa con cinturino e con plateau e perline di swarovski belle davvero no sì sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.